25 novembre 2022 ore 11 e 50 quello che vedete una cassa di mele che ho raccolto questo caduto col vento e la pioggia guardate un po al centro l'ho selezionato è chiaro che il seme non si do assolutamente mangiare vabbè questo perché ho selezionato da metà sono veramente altamente digeribili saporete esenti da trattamenti chimici guarda la rascia poi ci troviamo qui all'artipianeto a 608 metri del terzo su livello del mare